buongiorno a tutti stiamo andando a scordia anche oggi e finiamo il disco dai si può dire finiamo? sì oggi lo finiamo è praticamente finito si finisce da sé ieri abbiamo cominciato bene e chi ben comincia è a metà dell'opera e chi è a metà dell'opera all'altra metà da finire stamattina finiamo una grande cosa sì 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 stiamo facendo un altro pezzo l'Italia no con l'AGL l'Italia come il tagliare l'Italia sì 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Ma tu fai solo questo per tutto il pezzo? Sì, 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 sì. Ah, ok. Mi è piaciuto di più stavolta. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.